Sabato in centro, quello di domani, per i vigili del fuoco tienesi alle prese coi festeggiamenti per i loro 110 anni di vita, di attività. Un servizio prezioso e rinunciabile, non solo per la città, ma per l'intero Alto Vicentino, dove sono decine gli interventi dei pompieri volontari durante tutto l'anno. L'evento, simpaticamente denominato Pontieropoli, prendrà il via nel pomeriggio alle ore 15, negli spazi del parco di Villa Pabless, un'iniziativa a misura di famiglie e soprattutto bambini con percorsi ludici loro dedicati e l'immuncabile visita ai mezzi di intervento.